Nel 1963 Arendt pubblica una delle sue opere principali intitolata Eichmann in Jerusalem pubblicata in italiano con il titolo della banalità del male opera che ha visto moltissime ristampe fino ad arrivare a quella ad esempio del suo quarantesimo ovvero nell'anno 2013 pubblicata in Italia da Feltrinelli opera particolarmente importante non solo nel percorso intellettuale specifico di Ann Arendt ma anche per l'impatto che ha avuto nel panorama filosofico internazionale in generale e che ancora continua ad avere con la sua teorizzazione fondamentale che è quella di un male che è tanto più radicale quanto più è banale L'opera nasce dall'aver seguito da parte di Arendt il processo ad Otto Adolf Eichmann nel 1961 a Gerusalemme ovvero l'ufficiale nazista incaricato della cosiddetta soluzione finale aver seguito questo processo come inviata del New Yorker e aver poi raccolto le sue considerazioni all'interno dell'opera stessa quello che la Arendt imputa ad Eichmann e che peraltro la metterà in grande contrasto con parte della comunità intellettuale ebraica del periodo quello che Arendt diceva imputa ad Eichmann non è l'essere, l'incarnazione, la personificazione del male ma di aver compiuto tutto ciò che ha compiuto a causa di una banalità di fondo quindi la tesi centrale notissima è appunto che il male è tanto più radicale quanto più è banale non quanto più è demoniaco e questo la metterà in contrasto con quella parte di intellettuali soprattutto di provenienza ebraica quale ad esempio Gershom e Scholem volevano invece ricondurre il discorso di Eichmann nell'ambito del demoniaco, della personificazione, della malvagità assoluta e tematizzazioni simili mentre il discorso di Arendt dicevo, per questo conserva la sua attualità anche oggi ed è un'attualità che vorrei cercare di mostrare alla fine di questo breve intervento il discorso di Arendt si basa su una prospettiva completamente diversa che è quella di attribuire appunto ad Eichmann la incapacità di, per dirlo in termini illuministici, un selbstdenken cioè una capacità di autoriflessione sulle circostanze nelle quali si trova quindi di riflessione critica evidentemente su se stesso e sul mondo nel quale è inserito ciò che Arendt riscontra in Eichmann quindi è l'incapacità della comprensione della comprensione della natura, delle proprie azioni, delle conseguenze che si generano e del contesto generale all'interno del quale Eichmann stesso si trova e questo discorso qui già penso sia chiaro quanto conservi la sua attualità anche nel mondo contemporaneo il confronto di Arendt con Eichmann è svolto non soltanto all'interno di questo libro che dicevo deriva dal reportage del processo ma è svolto passando attraverso Kant in altre opere fondamentali dell'Arendt come ad esempio La vita della mente o Tra passato e futuro perché è così importante il passaggio di Arendt attraverso Kant per poi applicare le considerazioni che ne derivano anche al caso Eichmann o meglio forse semplicemente per trovare una conferma empirica di queste considerazioni nel caso Eichmann perché è così importante? perché quando Arendt si confronta con Kant lo fa passando principalmente attraverso la critica della ragion pratica iniziando dalla critica della ragion pratica perché è lì che emerge per la prima volta la parte politica del discorso kantiano ovvero il notissimo imperativo categorico secondo il quale l'azione deve essere compiuta in maniera tale che sia in accordo con il principio razionale interno al soggetto stesso ma dice l'Arendt l'opera più importante di teoria politica di Kant non è la critica della ragion pratica ma è la critica del giudizio perché è lì perché è lì che il giudizio esattamente quello che è mancato in Eichmann e non solo in lui la facoltà di giudizio è lì che il giudizio acquista una dimensione comunitaria perché è lì che il giudizio seguendo Kant nasce non dall'accordo solitario con se stessi ma dalla capacità di saper ragionare al posto dell'altro dalla capacità di sapersi porre nel punto di vista dell'altro quindi concretamente attraverso una capacità immaginativa questa capacità immaginativa evidentemente deriva secondo l'Arendt questa altra argomentazione la troviamo in la condizione umana tradotta in italiano come vita attiva del 58 questa capacità di saper ragionare al posto dell'altro quindi di saper presentificare gli altri deriva dal condividere se stessi in uno spazio pubblico, in uno spazio comune insieme agli altri condividendo azioni e pensieri questa presenza di uno spazio comune all'interno del quale potersi confrontare con gli altri è, secondo l'Arendt, la garanzia della possibilità di riuscire a ragionare dal punto di vista dell'altro piccola parentesi io aggiungerei che la presenza di uno spazio pubblico è una condizione necessaria ma non sufficiente per riuscire a attivare questa facoltà di giudizio cioè questa capacità di riuscire a ragionare al posto dell'altro ad ogni modo è fuori discussione il fatto che un'assenza di uno spazio pubblico ed una sua sostituzione con un discorso di tipo ideologico provochi invece l'incapacità di una comprensione critica di se stessi, delle conseguenze, delle proprie azioni del mondo nel quale siamo inseriti e così via quando dico sostituzione di uno spazio pubblico con un discorso ideologico intendo che il confronto se così ancora lo si può chiamare con il prossimo è improntato all'insegna di una ideologia ovvero del partire da premesse dogmatiche e poi dal ragionare in maniera meccanica in maniera automatica, in maniera causalistica da queste conseguenze ma quello che manca proprio quello che manca è il mettere in discussione le premesse dogmatiche del ragionamento è lì che si esercita che dovrebbe esercitarsi questo selbstdenken questo discorso solitario di se stesso con se stesso nel mettere in discussione quelli che sono i presupposti del ragionamento stesso e i presupposti del ragionamento stesso possono essere messi in discussione soltanto se teniamo in considerazione altri punti di vista cioè il punto di vista degli altri sui presupposti stessi del ragionamento se invece i presupposti vengono accettati in maniera dogmatica è ovvio che poi tutto quello che ne segue è semplicemente un meccanismo un meccanismo quindi non un ragionamento ma appunto un'ideologia ed è questo appunto il problema che in estrema sintesi ovviamente il discorso si può e si deve approfondire in estrema sintesi è questo il problema che Arendt riscontra in Eichmann e non solo in Eichmann evidentemente l'assenza di uno spazio pubblico nel quale potersi confrontare con il prossimo la sostituzione di questo spazio pubblico con un discorso di tipo ideologico cioè che parte da premesse dogmatiche e poi si muove in maniera esclusivamente causalistica e meccanicistica e tutto questo venendo direttamente all'opera la banalità del male tutto questo secondo Arendt è esemplificato fin dal modo in cui Eichmann si esprime perché di fronte al tribunale ad esempio Eichmann definisce se stesso come un Gott-Globiker cioè come un credente in Dio come un credente in Dio che però considera Dio come un Hoher-Sinn-Streger ovvero come un essere razionale superiore e perché è così importante questo tipo di definizione che dà Eichmann? perché va messa in relazione con il fatto che all'interno dell'esercito nazista il ruolo di Befelsenfenger che è un ruolo della gerarchia militare che potremmo definire come il ruolo di colui che porta gli ordini semplicemente da un luogo ad un altro era stata cambiata con questa definizione era stata cambiata con quella di Befels-Streger quindi definire Dio un Hoher-Sinn-Streger utilizzando questa stessa terminologia che richiama quella militare significa inserirlo all'interno della gerarchia militare nazista e la manipolazione linguistica continua quando ad esempio Eichmann ripetutamente durante il processo definiva la soluzione finale come evacuazione o trattamento speciale o la deportazione come cambiamento di residenza piccola parentesi anche in Italia negli anni scorsi abbiamo sentito questa definizione applicata al fenomeno della deportazione chiusa parentesi e soprattutto definiva definiva, questo è uno degli snodi centrali definiva la sua obbedienza al Führer come con la formula di cadaver georsam cadaver georsam significa obbedienza da cadavere obbedienza da cadavere ecco dove si dove prende corpo questa totale incapacità di Eichmann di mettere in discussione se stesso il mondo che lo circonda ciò che gli viene detto di fare e così via nell'essere semplicemente un esecutore un esecutore degli ordini che gli vengono comunicati ora perché dicevo che è così importante soffermarsi su questa definizione che Eichmann dà di se stesso della sua obbedienza al Führer come una obbedienza da cadavere richiamando peraltro quello che è stato definito come l'imperativo categorico strumentalizzando Kant come l'imperativo categorico all'interno del Terzo Reich che dovrebbe suonare più o meno così agisci in maniera tale che se il Führer conoscesse le tue azioni le approverebbe e quindi un imperativo che provoca la interiorizzazione di questo tipo di comportamenti perché è così importante dicevo evidenziare che l'obbedienza che Eichmann stesso definisce che ha nei confronti del Terzo Reich e del Führer in particolare è un'obbedienza da cadavere perché qui si colloca il punto centrale per il quale Arendt definisce il male compiuto da Eichmann e il male in generale come un qualcosa come un qualcosa che non ha radici non ha una fonte dalla quale promana ma è basato sul nulla appunto sulla banalità nel caso di Eichmann sulla sua obbedienza da cadavere che non viene mai messa in discussione da Eichmann stesso non viene mai messa in discussione secondo Arendt non può Eichmann metterla in discussione perché vive in un contesto nel quale non ha questo spazio pubblico che gli permetterebbe un'espansione della sua facoltà di giudizio tant'è che per questo Arendt arriva addirittura a sostenere che l'imputabilità di Eichmann e degli altri gerarchi nazisti è un'imputabilità che si muove su un livello giuridico ma che non può valere su un livello morale perché da un punto di vista morale erano in una struttura sistemica che gli impediva di comprendere cosa stessero facendo evidentemente anche all'interno di questa struttura sistemica sappiamo benissimo che c'era invece chi comprendeva la situazione nella quale si era venuto a trovare ma evidentemente il discorso di Arendt non si basa sulle capacità di chi riesce ad essere critico pur in circostanze che distruggono la critica ma il discorso di Arendt è basato sulla possibilità di costruire un sistema che in maniera diffusa permetta l'esercizio della critica o meglio ancora in termini arendiani l'esercizio del giudizio non affidandosi ovviamente a quei pochi che riescono a esercitare il giudizio anche in circostanze che potenzialmente lo sopprimono dicevo perché è così importante questo non soltanto per dare conto di quella che è l'argomentazione arendiana in confronto con le argomentazioni che sembrano un po' superficiali e che non colgono il cuore del problema della radicalità del male come un qualcosa di natura demoniaca è importante invece perché anche perché da qui possiamo trarre delle conseguenze molto importanti se noi teniamo in considerazione il fatto che il modo in cui Arendt dipinge Eichmann all'interno di questo libro è un modo appunto che non lo ritrae come il diavolo tra virgolette ma come un onesto e egregio professionista e anche un ottimo padre di famiglia perché Eichmann alla fine della sua giornata lavorativa che consisteva nel pianificare e programmare la soluzione finale tornava a casa giocava con il proprio figlio si prendeva cura della propria moglie faceva quello che faceva semplicemente per assicurare la sopravvivenza e un futuro dignitoso a se stesso e alla propria famiglia per questo non è il demoniaco Eichmann tutto al contrario è un gran lavoratore e un ottimo pater familias per questo Arendt ad esempio scrive nella banità del male una mezza dozzina di psichiatri lo aveva dichiarato normale e uno di questi si dice aveva esclamato addirittura più normale di quello che sono io dopo che l'ho visitato mentre un altro aveva trovato che tutta la sua psicologia tutto il suo atteggiamento verso la moglie e i figli verso la madre il padre i fratelli le sorelle e gli amici era non solo normale ma ideale ideale Eichmann non è un mostro Eichmann è un pater familias ideale un professionista ideale perché svolge egregiamente la sua attività professionistica essendo essendone un esecutore cadaverico e perché lo fa per prendersi cura della sopravvivenza di se stesso e dei propri cari di se stesso e dei propri cari è quindi Eichmann utilizzando ricorrendo ad un'altra terminologia arendiana che troviamo in vita attiva di human condition è quindi Eichmann un animal laborance niente di più che un animal laborance cioè colui che lavora semplicemente per assicurare la sopravvivenza a se stesso e ai propri cari senza interrogarsi sulle circostanze la natura le conseguenze delle proprie azioni Ora perché questo è così importante? Perché come Arendt stessa andava scrivendo in proprio vita attiva The Human Condition poi la morte del 75 impedisce ad Arendt di continuare questa linea di riflessione sarebbe stato interessante vedere se questo non l'avesse portata a confluire in qualche modo con quanto scritto ad esempio da Marcuse in One Dimensional Man ovvero una continuità del dominio tra il regime nazista e le democrazie occidentali ma questo è un altro discorso torniamo alla Arendt dicevo perché è così importante questo perché getta un filo diretto che già dicevo si trova nelle pagine conclusive di vita attiva tra la condizione di Eichmann e la condizione che noi viviamo oggigiorno nella società contemporanea non solo a livello lavorativo ma avendo introiettato questa condizione anche oltre la mera dimensione lavorativa mi riferisco ad esempio alla figura del manager discorso già affrontato non a caso da Max Horkheimer in seno alla scuola di Francoforte nel suo scritto lo stato autoritario mi riferisco ovvero alla figura del manager ovvero a colui che è un professionista ineccepibile svolge quello che svolge con risultati eccellenti lo fa per assicurare la sopravvivenza di se stesso e della propria famiglia ma non mette minimamente in discussione le premesse di quello che sta facendo non è capace di nessun tipo di sguardo critico sulla natura e sulle conseguenze di quello che sta facendo ecco perché tornare 40 anni dopo alla banità del male di Arendt è importante non soltanto per l'opera in sé ma perché getta un filo rosso scandaloso e sconcertante tra Eichmann ripeto Animal Laborance ottimo professionista eccellente Pater Familias e la figura del manager di oggi e attenzione quando dico manager non mi riferisco esclusivamente al manager delle grandi nazionali ma anche su scala estremamente ridotta nell'amministrazione ad esempio della propria famiglia non a caso il termine economia questo significa comunque anche su scala ridotta nell'amministrazione della propria famiglia si applicano i principi del management dell'amministrazione quindi questa considerazione sul manager non vale solo per i grandi manager ma vale anche per l'amministrazione della vita a livello capillare a livello capillare che se viene amministrata appunto attraverso la forma mentis del manager su grande scala e su piccola scala che è la forma mentis del di quella obbedienza che Arne chiama cadaver georsam può provocare o di fatto provoca sempre conseguenze simili a quelle che ci sono state all'interno del terzo Reich e che possono tornare non necessariamente in quelle forme ma in altre modalità per questo parlavo di one dimensional man poco fa ed è così io direi scandaloso sconcertante questo filo diretto tra Eichmann e il manager ripeto il manager su grande scala su piccola scala è così sconcertante perché nella figura del manager nella figura del manager noi troviamo la possibilità e la capacità di prendersi cura di qualcuno o di uccidere qualcuno con la stessa indifferenza di uccidere di uccidere